Professor, diciamo un personaggio di un fumetto, allora. No romance! E la storia di un signore inglese, pensano poco, da 700, no? Che naufragò come noi in un'isola dei Caraibi e lui, per sincerarsi che l'isola era abitata, salì in cima ad una collina. Bestiale. Professor, ma questo Robinson, poi, trovò qualcuno sopra quest'isola? Uh, come no? Ah, come no? Trovò uno cannibali che pensano poco. Lui chiamò... Venerdì! Venerdì. Però che nome è scemo, eh? Cioè, se io incontro un cannibale, lo chiamo Guerrero, professor. E chi è? Come chi è? Come chi è Guerrero? La punta di diamante del Bari. Cioè, lei è proprio ignorante, professor, eh? Vabbè, vai. Fuori! Fuori! E domani deve venire accompagnato da un genitore, hai capito? Maleducato! Quella roba va a mazzi, ma me lo sentite? È proprio ignorante, guarda che io ti bacio, eh?